Iè, ieee Stava immobile nel letto, con le gambe inesistenti E' una piaga sulla bocca, che seccava il suo sorriso Mi parlava rassegnato, con la lingua di chi spera Di chissà che prenotato, sulla sedia di Lilla Grazie a te. Poi, per esempio, è la cities di merito e più prognostico. Questo viene con il nostro lavoro per il nostro lavoro e per il nostro lavoro. Oltre a tutti i nostri stranieri che ci sono per scoprire al nostro lavoro di interessanti, così è app移ato. Poi, noi sono tutti i nostri umani, quindi ci sono tutti i nostri stranieri, quindi, è la vita di noi. Come abbiamo? Abbiamo neascogliata così, ma anche a dire, quando andiamo chiuso, amivata da farti portare e dai nostri stranieri? Quindi, sui rienti per farlo, come un'aziettione ma? Grazie a tutti. Ti, ti, grazie a tutti. Andrea noi, e io ho ragazzo di lei di un'altra persona che ha fatto, e io penso che di lui apprezzato in un'altra persona. Voi provare bene bene bene, ma è posa solo il suo stesso lavoro e questo è la nostra diversione, spionata in un'altra parte che ha fatto, ma è un' Ezoguia che ha fatto, ma è un'esplice, i loro hanno una lombra, e il suo lavoro, se sarebbe così non è un'esplice, ma è un'esplice, è un'esplice evidente, sentivano, che aveva lavorato alla fine. So noi apprendiamo il nostro lavoro. Vi ho provato l'imposizione a fare le loro cose. So stai a fare le loro cose. Di quando stai ancora lavorato nella vita. Noi sono di più, ma anche io lavoro più bemmo. Lo vi ho fatto. L'immittero è gioco meramente in tempo. E quindi chiama le loro cose è che ho iniziato a fare le loro cose. Sì. In attia, che c'è la mia parte. Come la mia parte, come io ti senti? C'è l'ho abbasto, un po' che ti senti? Anche lezioni del 204, in cui sono stati un po' di appare in questo modo. D'attente, a dire che si facesse bene, ma che bisogna fare un po' di appare un po' di strane. Alla scelta, e scada in strane, gli insieme stati un po' di usage. Alla prossima, ascolta l'escrivo l'escrivito juro, per esempio. Alla prossima, l'a consiglia di studiare un po' di half di ogni cosa. C'è un po' di più d'anni rapazi, per le' ritorno di riscrizione. È un po' di più? Di le fatti d'ingedie un po' di più? Come si ti vuole? Chora l'espero che il suo vita è necessario perездеo e aberrere in un sistema e non un'esplodamento della titola a dependence di un e-mail e di aerofissore per un'esploda per il suo nome e di un annaccio che è il suo nome e risultato che la Poneguine non è nella fine delظ o che lo abbiamo visto che questo è che mi ha spesa, non è la partenza per il suo nome. La forma per riflessione è che la fine fa è la fine marine e la fine di effetti più grelli che si trovi. Grazie. 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 ed è stato una foto, un tante, un monto, bispo istället fuori di conoscenza, in caso di quelli che non sono state, non sono state, non sono state cortiche, quindi sono state di passare, sono state di passare per fare, essere state sicure, essere state, non sono state di passare, sono state di passare, sono state di provare ad essere stati di passare, noi siamo stati consapevoli, noi siamo stati assolutamente, noi siamo stati in base, gli altri, tutti. e tramandolo, e che era imponente in questa vita e quindi per lui c'èưởngo che anche il giusto di essere l'azione che si fa, ma che si vede dell'euro, però non ero spiega, se si riferi che s'ilge lo era un'euro, ma è un'eserciabile, sono un'eserciabile, sono un'eserciabile, o no, adesso non è lo stesso, ma non è una cosa, ma non è una cosa che fa e per la questione. Ma che significa, cosa è la strada di una delle diverse街, ma vianche una cerca di una delle cose che si tratta di un'eserciabile, Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.